L'Umbria 4. Sostegno creditizio per le imprese in difficoltà 5. Nuove risorse dal pacchetto anticrisi per i settori strategici 6. Razionalizzazione della macchina amministrativa per liberare nuove risorse da investire 7. Lotta all'usura in tutte le sue forme 8. Pagamenti lampo alle imprese per servizi e forniture resi alle pubbliche amministrazioni 9. Accesso rapido delle aziende e fondi pubblici di investimento e nonostante i tagli indiscriminati del governo di centrodestra le imposte dei cittadini umbri non sono aumentate di un euro